Eccoci ancora qui cari amici di Teramo Web, eccoci ancora qui con Salvatore, ciao Salvatore, bentornato, è il nostro ormai classico appuntamento con la RALDA Abruzzese. Iniziamo subito questo appuntamento con la RALDA Abruzzese, chiaramente guardando la prima pagina e questa settimana in realtà la prima pagina non ci piace tanto, ma perché? Perché si parla dell'attacco a Israele, quindi questo attacco che è arrivato a sorpresa, ha sorpreso tutti, Israele stesso, ma tutta l'opinione pubblica. Sì, non avrei mai voluto dover pubblicare, dover, ripeto, dover pubblicare in prima pagina una cosa del genere, perché la guerra è guerra e questa situazione è una situazione veramente drammatica la cui evoluzione non credo che sia prevedibile, perché probabilmente non è alla stessa stregua, senza probabilmente, il mio giudizio, non è alla stessa stregua dell'Ucraina. Qui ci sono dei rancori vecchi, vecchissimi, ci sono posizioni di mancata convivenza, di mancato rispetto e si aggiunge anche, in questo caso, un terrorismo che è legato a un aspetto religioso, questo è ancora peggiore. L'invasione terroristica di Hamas è indescrivibile, non ci sono aggettivi per chi invade, per chi commette crimini di guerra nei confronti di bambini, particolarmente di donne e di bambini, questi sono crimini di guerra e non possiamo noi dire tanto prima o poi finirà. Dobbiamo prendere coscienza che queste situazioni non si devono ripetere, non si devono ripetere. Il problema della pace parte dal rispetto della persona, che può essere anche di idee diverse, di religioni diverse, però dobbiamo imparare a condividere e a convivere. Il problema, lo sappiamo tutti, questo nei vari telegiornali che abbiamo sentito, che l'Egitto che ha offerto una possibilità di uno spazio per poter far passare i viveri, sia Israele che la Palestina sono rifiutati, non hanno voluto accettarli in nessun modo, ciò fa capire in questo momento come veramente è tragica la cosa. Sì, perché c'è rigidità. Sì, al punto di rottura, tu ne parli col tuo editoriale, accenni un po' al punto di rottura. Papa Francesco, sì, tu adesso fai riferimento al mio editoriale, perché invito tutti veramente a leggere l'esortazione apostolica, Laudate Deum, che è venuta fuori, è stata pubblicata il giorno del 4, il giorno di San Francesco. Una continuazione della Laudato Si, ma una continuazione con una presentazione, scusate, immediata, dura, del dramma che stiamo vivendo anche oggi. Non abbiamo ancora preso coscienza di quello che abbiamo causato e stiamo continuando a causare. Qual è l'obiettivo poi? Perché il primo obiettivo è il profitto, che va anche al di sopra e calpesta la persona. Papa Francesco lo sta dicendo in tutte le salse. Smettiamola di avere come unico obiettivo il profitto, perché ci stiamo in questo modo autodistruggendo. Oltre che abbiamo allargato notevolissimamente la forbice tra chi è ricco e diventa sempre più ricco e tra chi è povero e diventa sempre più povero. Non sono parole queste, queste sono fatti. E la situazione anche nostra, europea, italiana, ci dice che la povertà aumenta e solo pochi aumentano la ricchezza. Questo è da denunciare a gran voce. Siamo veramente a un punto di rottura se non prendiamo coscienza che bisogna attuare una convivenza umana, rispettosa della persona. Dobbiamo cambiare anche argomento, come al solito, tutti lo sanno, dobbiamo cambiare l'argomento. E' un argomento che in questi giorni, in questi ultimi mesi, un argomento che ne parla sempre, l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, nel mondo della scuola, ovunque ormai, si moltiplicano i programmi che danno questa possibilità all'intelligenza artificiale. E' veramente vantaggiosa? Può creare dei problemi? Serve veramente? Oppure è una moda? Chissà, che dici Salvatore? Beh, io dico che determinati elementi di progresso, la realtà che la tecnologia va avanti, non è che noi possiamo fermarla. Noi possiamo cercare di gestirla. E proprio questo articolo vuole farci riflettere come l'intelligenza artificiale oggi è un dato di fatto. Se noi pensiamo all'avvento dello smartphone, che fino a vent'anni fa sembrava una cosa quasi assurda, poi vennero fuori quei mattoni di cosiddetti cellulari, e adesso con un piccolo cellulare praticamente sostituiamo un computer. Allora, è certo che dobbiamo saper gestire questa dinamica, dobbiamo saper gestire la tecnologia. La tecnologia non sostituisce l'uomo, anzi, è l'uomo che fa progressi tecnologici. E l'intelligenza artificiale, almeno a detta degli esperti, non potrà mai sostituire la mano dell'uomo. Dietro l'intelligenza artificiale c'è l'uomo. E poi l'intelligenza artificiale non è il nemico, è una nuova realtà che si innesta nella nostra e nel nostro contesto e invita noi altri a prendere coscienza che c'è una dinamica diversa. E' certo che l'intelligenza artificiale sostituisce alcune tipologie lavorative. E allora, e qui ora rientra in ballo tutto il problema della formazione, dell'educazione e della scuola. Cioè la scuola non deve essere funzionale direttamente a quel tipo di lavoro. La scuola deve educare a ragionare. Perché nel momento in cui io sono educato a ragionare, essendo me stesso, mi posso convertire a più di un'attività lavorativa e non creare la scuola in funzione soltanto, come fosse un apprendistato per poi svolgere determinati lavori. Vabbè, la chiudo qui. Sì, io volevo solo dirti che l'altro giorno ho visto un'intervista di uno scienziato giapponese, che è definito lo scienziato che ha creato i robot più simili all'uomo. E dove lui diceva, in questo momento sì, hanno anche delle sensazioni robot, ma sono sensazioni codificate. Quindi non è... Chi ha dato l'uomo? Sa che in quel momento ha una certa domanda, deve dare quella sensazione. Però diceva, questo mi preoccupa, che stanno facendo degli studi per dargli invece un'autonomia in questo. Non più fatta per numeri, ma proprio lui stesso si crea questa autonomia e quindi anche come sensazione se lo crea da solo. Questo diventa più preoccupante però, perché incomincia a essere non più vincolato dall'uomo. Certo, ma allo stato attuale, dietro l'intelligenza artificiale c'è l'uomo. Fino adesso sì. C'è l'uomo. Ed è indispensabile la mente umana, il cervello umano, dietro. Cosa accadrà domani? Non lo sappiamo. E l'importante, a mio giudizio, è saper gestire i cambiamenti. Non subirli, gestirli. Com'è importante gestire a partire da questo. E' importante gestirlo, perché questo ci dà tanto di prezioso e altrettante, forse ancora di più, scusate la volgarità, di immondizia. Allora, dobbiamo essere capaci di separare il buon grano dall'olio. Mentre parlavamo, è venuto in mente, molti di voi se lo ricorderanno, la pecora d'olli. Ah sì. La pecora d'olli, quando iniziò la clonazione, si pensava che si... Poi gli stessi scienziati si misero un limite. Eh certo. Si misero un limite. E' certo. E quindi hanno capito che non si poteva andare oltre un certo limite. Ma in quel momento la pecora d'olli era proprio il passepartout per creare... Ma anche per giustificare tutto. Per giustificare tutto. Che la scienza non ha barriere, non ha limiti e non ha confini. Beh insomma, la scienza ha degli impegni anche, etici, morali. Bene. Dobbiamo interromperci, altrimenti qua ne parliamo sempre e continuamente. Guardando, adesso ci interrompiamo, l'abbonamento all'Araldo Abruzzese. Ricordatevi di abbonarvi. Abbiamo ancora per quest'anno l'abbonamento all'Avvenire Digitale. Non è costoso abbonarsi all'Araldo Abruzzese, quindi potete farlo. Una piccola donazione, possiamo dire. Niente di che. E quindi abbonatevi, leggete, l'Araldo ancora fa caldo. Vedete, quindi magari un piazza, fermo, un bar, ci leggiamo giornali sportivi, giornali politici, c'è anche l'Araldo. Mettetelo anche in considerazione e noi siamo felici. Bene, vi ringraziamo anche per oggi, ci fermiamo qui. E allora appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. Saluto a tutti. Saluto a tutti. Grazie a tutti.